Ecco, alle cicali, sesso femminile, ossia alle femministe di cattiva memoria, ho qualcosa da dire. Giù la maschera, farsi a mazzo. Ebbene, dove è finito il vostro primoroso femministo, femminismo? Dove è finita la vostra presunta delicosità? Com'è che sulle sorelle afghane sulle creature assassinate e rinziate e mutate da maschilisti con la sottamera inturbante, imitate al silenzio dei vostri oggetti? Com'è che non organizzate mai una pagatina davanti alla masciata dell'Afghanistan e dell'Arabia Saudita o di qualcun altro paese musulmano? Oppure delle sorelle musulmane, non ve ne importa perché le considerate interiore, in tal caso, chi è razzista? Io o voi? La verità è che non siete nemmeno cicali, siete e sempre sono galline che stanno alzate nel polpaio, cocodè, 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 o parassite che per tentare di mercele avete avuto bisogno di un uomo che vi reggessero strassi. Grazie. Grazie. Grazie.